Contenti di questa informalità. Gli ospiti sono arrivati tutti. Oggi credo che non ci sia dobbio che dal punto di vista istituzionale delle notizie, il primo a parlare che ci spiega il quadro, almeno dal punto di vista delle decisioni fondamentali per quanto riguarda le infrastrutture, è Mario Ciaccia, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le decisioni riportate dai giornali di oggi sono, come sempre, criticate in modo controverso, ma resteranno a loro volta come punto di riferimento per i prossimi anni. Buonasera a tutti, scusate l'ora ma corro da Roma dove stanotte abbiamo terminato un Consiglio dei Ministri, riprenderà tra poche ore, ma sono qui per testimoniare quanto io ci credo nelle città. Diceva De Biasi, città di lunga durata, gli stimoli, io sono qui per fare delle provocazioni a voi perché mi accompagnate, ci accompagnate in un processo di evoluzione normativa che se non viene metabolizzato in maniera adeguata io credo che avremo perso una grande occasione quella di restituire al territorio, alle città, quelle che esse effettivamente significano per l'economia, per la qualità della vita della gente, per il futuro. Come al solito, ho fatto alcuni appunti ma li cancello. Allora, quanti minuti ho? 20 minuti ce li ho? Benissimo. Noi abbiamo fatto, facciamo a volte delle affermazioni in ordine sparso, cioè singole occorrenze, singole risposte, manca però, mancava direi, perché si potranno forse, si potrà dire, il Parlamento lo potrà fare, che alcune cose si possono fare meglio, però certamente noi ci siamo mossi in una logica di sistema. Siamo usciti fuori dall'enorme spot che rispondono soltanto ad alcune esigenze congiunturali, ad alcune suggestioni mosse da gruppi organizzati, sia pure in buona fede per lo sviluppo settoriale. Se noi non usciamo fuori da una logica spot e non entriamo in una logica di sistema, abbiamo perso. Io credo che sia venuto il tempo di entrarci, e ci siamo entrati già emanando al galoppo qualcosa come, in generale, fino a ieri, perché adesso ci sono le norme del disegno di legge di cui faremo un accenno tra poco, 120 norme, 100 di queste ve le trovate già commentate, spiegate, masticate sul sito del Ministero, le altre le sto facendo organizzare perché siano anche esse chiare, ma che dicono effettivamente qual è la rilevanza che è enorme in termini di garanzie, di certezza, di bancabilità, di opportunità, di visione che consenta all'investitore estero, al capitale di rischio di cui abbiamo tanto bisogno per colmare gap infrastrutturale, ma le tante esigenze di infrastrutture a valenza territoriale, che possano di capitale di rischio, ce n'è tanto, c'è bisogno di un quadro di certezze che non c'era prima, chi fa che cosa, tempi di approvazione da parte del Cipe, tempi di registrazione da parte della Corte dei Conti, la cosa effettivamente mette lo Stato e cosa non mette, che cosa si chiede, l'allungamento delle concessioni a 50 anni, tanta roba che evidentemente intanto ha avuto l'obiettivo, non dico il merito, quello aspetterà chi viene dopo, quello che si vedrà sul territorio, però ha avuto l'obiettivo di introdurre una visione di sistema nella quale, guardate, si collocano anche quegli shock positivi per l'edilizia, quali sono state i bonus fiscali, per le ristrutturazioni, per l'efficientamento energetico, per l'IVA neutrale per le imprese di costruzione, per l'autonomia finanziaria dei porti, che sono cantieri che devono far scopa anche con le città, perché adesso le guardiamo, le città come le vediamo guardando non soltanto al futuro, ma già in termini attuali. Allora, queste robe qua servono a loro volta per fare da motore, intanto per l'economia, perché significa mettere in piedi subito dei cantieri di recupero edilizio, quelle sono norme che consentono evidentemente di entrare nell'ottica che non si spreca di proprio immobile, stimolato dallo Stato si può evidentemente ristrutturare, maggior valore per l'immobile, a catena, perché no, maggior valore per tutti, perché diventa lavoro per tutti coloro che intervengono, e credo che questo non faccia male in un paese nel quale bisogna restituire posti di lavoro e dignità alla gente. Ma le città, perché possono anche essere, possono avvalersi di questi strumenti normativi dei quali abbiamo parlato? Anzitutto perché gli strumenti normativi consentono di dare priorità strategica alle infrastrutture, cioè basta con i battibecchi di Pollaio, è più bello il porto mio, è più bello l'aeroporto mio, l'autostrada mia, ci siamo messi sulla logica europea di quelle che sono le infrastrutture che servono effettivamente per interconnettere il nostro paese con il resto dell'Europa e per consentire all'Europa, che non regala niente, ma cofinanzia quelle che sono le infrastrutture che sono necessarie, per poter raccogliere la sfida del terzo millennio che ormai non si gioca più nella competitività e nella concorrenza tra singoli paesi, tra singoli stati, ma ormai tra continenti. Solo fino a pochi anni fa non avremmo immaginato quello che è successo in Cina, dopo in India, ma in America Latina, il Brasile, l'Ula e quant'altro e adesso sta succedendo in Africa. Allora, non a caso, l'Europa ci ha dato quattro corridoi strategici su dieci, corridoi a rete che identificano anche porti, aeroporti, nodi, snodi, interporti, città metropolitane, perché ecco il ruolo della città. Già oggi, secondo le rilevazioni che sono state fatte, il 60% della popolazione europea vive nelle città e una fetta molto elevata del PIL viene prodotta nelle città. Le città non sono più viste soltanto come il luogo o di soddisfazione di alcuni bisogni essenziali della vita, ma sono luoghi di produzione del PIL. Però con questo paghiamo 11 miliardi soltanto l'anno di congestione del traffico. Da qui al 2030, l'80% della popolazione ci dicono che appunto vivrà nelle città e la maggior parte del PIL sarà verso le città. Quindi la città concepita nel senso tradizionale come città in qualche modo chiusa, perché viveva anche di un retaggio storico della città che si difendeva dall'esterno, diventa una città aperta, diventa un laboratorio, diventa un'opportunità, può diventare una disgrazia se non ci si prende conto di questo in termini di attrezzatura per la città per rispondere ai nuovi bisogni, alla nuova economia che diventa incubatrice a sua volta di posti di lavoro e di nuove realtà. Se entriamo in questa logica si capisce perché ho fatto l'accenno ai quattro corridoi, perché in realtà a loro volta la mobilità delle città, la mobilità intelligente che deve essere ripettinata nelle sue infrastrutture di città, deve guardare la possibilità di interconnettersi con i grandi corridoi, con i grandi assi autostradali e ferroviari, se è vero che insieme fanno la produzione del PIL. E in questo ovviamente tutti gli strumenti tecnologici disponibili devono essere in funzione di questo obiettivo grande, che non riguarda il singolo territorio, non riguarda la singola città, riguarda il sistema paese, direi il sistema europeo. Ed ecco quindi che vengano i discorsi finalmente di città intelligenti, le smart city, l'immediata informatizzazione di come si devono muovere i trasporti, di come devono essere modificati. E non a caso, credo che faccia scopa con quanto ho detto prima in termini di infrastrutture e materiali, quanto è stato approvato recentemente nell'ultimo decreto sviluppo, per quanto riguarda la banda larga e l'agenda digitale. Non stiamo parlando di roba futuribile, l'abbiamo messa finalmente su campo. E su questo stesso campo ha potuto fare, svolgere una funzione propulsiva, quella che è una cosa che io reputo ancora oggi è una bella cosa, il piano città. Il piano città non va visto soltanto come pezzo di recupero importantissimo del degrado urbano, va visto in questo contesto della rinascita delle città. Io credo che, ma non soltanto il nostro paese, nessun paese potrà andare avanti se non si riscopre il ruolo importante delle città e di chi governa le città responsabilmente. Le città sono qui per dire questo, non sono per dire cose che sono trascendentali dell'altro mondo, ma per dire che noi insieme dobbiamo avere la consapevolezza che chi governa e chi è governato deve recuperare, reimpossessarsi del territorio per renderlo nuovamente non soltanto vivibile, non soltanto per migliorare la qualità della vita, non soltanto per risparmiare tempo, non soltanto perché diventi un incubatore di economia, ma perché effettivamente insieme chi governa e chi è governato possano restituire nuovo sviluppo, nuova crescita al nostro paese. Il piano città poi a sua volta è chiaro che sta svolgendo questa funzione di spinta, di stimolo, che si avvale poi di quei vantaggi fiscali anche che ho detto prima, ma che comunque nasce da un'idea e in pochi mesi mette assieme in quella che vi è stata descritta, immagino dal buon crocco che è qui davanti a me, e che è il presidente della commissione giudicatrice, mettiamola così, si chiama cabina di regia perché ormai con la regia si fanno tante cose, è il presidente della commissione giudicatrice di quelli che sono i progetti e abbiamo messo per far partire questo primo anno di piano città perché ci dovranno essere tanti piani città per il recupero di aree degradate che in una visione sistemica appunto possano mettere assieme pubblico e privato in un'ottica di partenariato, pubblico e privato avvalendosi anche gli strumenti finanziari innovativi perché anche quelli ci possono essere come i project bond ma non abbiamo il tempo di parlarne perché ovviamente queste aree possano restituire non soltanto quella dignità che vale per tutti ma diventino anche aree nelle quali si recuperi e non si consumi territorio. Ecco, io credo che se noi ci muoveremo in quest'ottica fattiva io credo che le città possano rinventare nuovamente il centro dell'attenzione socio-economica del paese. Come sta andando a piano città aveva già detto Crocco immagino gli ha detto Crocco ha detto tutto quindi non spreco però è importante cogliere alcuni elementi uno l'Unione Europea se è interessata dice accipicchia state andando avanti voi altri quindi ovviamente rientra in una visione urbanistica europea tanto che vi avrà detto Crocco non so che ci sono venuto a fare per parlare di queste cose che potremo concorrere ai 2 miliardi e mezzo che verranno messi da parte della commissione ma non solo c'è la BEI che a sua volta ha ritenuto che possa essere aperta una linea di credito dedicata per i comuni che potranno evidentemente disporre di questo tipo di intervento ma non solo anche l'ABI ha dato una sua disponibilità e ovviamente nessuna disponibilità sarebbe servita qualcosa se non ci fosse stata la collaborazione di quel signore là che rappresenta i comuni italiani che è l'Anci senza la quale ovviamente non si sarebbe potuto fare assolutamente niente e ovviamente senza nemmeno non si sarebbe potuto fare se non ci fosse stata anche una logica di leale collaborazione da parte delle regioni e delle province cioè da parte del territorio qui noi dobbiamo vincere la logica delle competenze formali e guardare allo sviluppo alla crescita della nostra gente allo sviluppo alla crescita delle nostre economie e certo che quindi quelle che sono dal punto di vista fenomenico materiale più attrezzate sono i comuni ed ecco che l'Anci sostanzialmente ha svolto quella e sta svolgendo quell'opera meditoria piuttosto sbrigatevi un po' perché io non posso aspettare più di tanto perché poi mi censurano se vedono i cantieri alla fine dell'anno e mi raccomando io ci faccio affidamento fateci affidamento no stanno facendo un lavoro prezioso quindi siccome deve essere serio e trasparente in tutte le sue fasi procedimentali il tempo necessario non si può bruciare anche perché devono essere bei progetti certo quei due miliardi che abbiamo messo in armonia in comunicazione tra di loro non potranno soddisfare quelle enormi tante domande chi se le aspettava io mi aspettavo 80-90 domande ma evidentemente abbiamo intercettato un bisogno forte del territorio ne sono arrivate l'avrà detto Grocco come al solito non l'ha detto 425 ancora di più no basta 425 però a me ne risultavano 425 del rio mi fa segnare che forse ce n'è qualcuna di più ma vuol dire che da nord centro-sud abbiamo intercettato un bisogno diffuso di recupero del territorio di recupero del patrimonio edilizio che poi soltanto la nostra mancanza di visione concreta delle nostre architetture del nostro demanio e quant'altro ci fa sottovalutare sono bellezze che una volta ritornate alla luce sono invidiate in tutto il mondo ma ci possiamo confrontare da questo punto di vista con altri paesi che non per colpa loro ma perché non hanno la nostra stessa storia non hanno la storia delle nostre città degli interventi dal punto di vista architettonico che sono stati fatti e quindi dà la possibilità che queste aree vivano diventando a loro volta centro d'attrazione si è dato disponibile il collega Gnudi per quanto riguarda il settore dello sport che evidentemente ha dei fondi per metterceli dentro i comuni potranno probabilmente mettere a disposizione una parte di quel patrimonio culturale che a volte giace nelle cantine perché non sanno dove metterlo e valorizzare quindi ulteriormente queste aree che possono diventare aree di sviluppo aree di sviluppo nelle quali si possono moltiplicare i mestieri attraverso le scuole che abbiano una vita lunga dal punto di vista della durata giornaliera bene tutta questa roba io credo che possa mettere su tanti attrattori di capacità di immaginare un recupero funzionale alla persona e allo sviluppo economico delle città e proprio su questa strada abbiamo continuato con la tenacia che credo almeno questa credo ci venga riconosciuta ieri è stato approvato un disegno di legge fortemente voluto che oltre a introdurre molte cose importanti quali facilitare la bancabilità delle opere le centrali di committenza quant'altro il consenso pubblico per le infrastrutture quello che in Francia si chiama il debate pubblico e altre robe deleghe ci sono due una disposizione una delega importantissima una disposizione che proprio è volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio oggi esistente come favorendo dando la possibilità ai comuni di far gravare per gli oneri di urbanizzazione e gli oneri di costruzione meno quei recuperi edilizzi che possono essere effettuati specialmente in quelle zone che sono fortemente antropizzate fortemente ricche di immobili che possono essere ristrutturati recuperati e in qualche modo dissuadendo per quelle zone quelle che sono le realizzazioni di nuove costruzioni quindi recuperare il territorio una norma volta al recupero del territorio e poi una grossa delega una delega in materia di edilizia e governo del territorio da esercitare entro sei mesi con la quale nel rispetto attenzione facciamo sempre il discorso di lavorare insieme non di contrapposizione nel rispetto delle competenze del titolo quinto della Costituzione non si toglie niente a nessuno però non si può non cercare di armonizzare quella che è la legislazione statale e la legislazione regionale laddove questa sia stata emanata in termini di principi per l'edilizia sul territorio e quindi favorire evidentemente che vi sia un territorio che nella sua visione più armonica sia un territorio che appunto guardi anche a questo nuovo modo di concepire le città di come concepire l'edilizia e nel far questo è chiaro che ritornando a prima al recupero del territorio per le città per le grandi città e nella visione anche delle grandi infrastrutture a sistema forse si trova anche la chiave di volta per il recupero dell'assetto idrogeologico del nostro paese se non ci si va recuperando o introducendo laddove necessarie le infrastrutture che richiedono un'esplorazione del territorio se non ci si va sul territorio recuperando tessuti urbanistici importanti e probabilmente poi diventa sempre un problema che si aggiunge quello che comunque va risolto e che è quello dell'assetto idrogeologico del nostro paese che è un problema storico di cui ci si accorge ogni volta quando succedono le cose che non dovrebbero succedere ma io credo che se mettiamo assieme norme sul recupero del territorio norme che favoriscano l'evoluzione che è scritta già nelle norme dell'Europa e nella disciplina dell'economia che recuperino il territorio urbanistico che lo rendano evidentemente capace di essere motore di sviluppo e di crescita oltre che di qualità della vita io credo che tutto questo non potrà che favorire lo sviluppo armonico dell'intero sistema economico che peraltro attraverso le grandi infrastrutture si sta già collegando una volta uno viveva a Torino o viveva a Milano a Roma o viveva a Napoli ora con l'alta velocità uno indifferentemente può vivere in una delle due città il che significa che le città andranno allargandosi a comunicare sempre di più tra di loro tra chi ci abita e le economie che si devono sviluppare nella città e intorno alla città ecco credo che attraverso questo disegno di legge che è di tipo ordinamentale e in qualche modo di completamento di quelle 120 norme che sono state emanate sinora credo che l'attenzione rivolta verso la città verso la città veloce la città aperta che si avvale ovviamente di quell'altro strumento potentissimo che deve essere la realizzazione dell'agenda digitale io credo che in qualche modo probabilmente possiamo guardare con maggiore serenità al futuro grazie 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 grazie